Se ami il calcio, scegli Premium, il modo più facile e conveniente per vedere il grande calcio italiano ed internazionale. Con Premium potrai vedere tutte le partite di 12 squadre, Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Genoa, Bari e due grandi novità, Fiorentina e Palermo. Tutte le partite della Champions League e in esclusiva tutte le partite di Europa League e del Mondiale per Club. Se ti abboni potrai avere calcio, ma anche cinema e serie TV a soli 14 euro al mese per tutto il 2010. Ma chi ti fa un'offerta così? Scopri com'è facile avere Premium. Chiama al 199 303 404 oppure vai su mediasetpremium.it. Incredibile, ma Premium!